via instagram stories alessia cammarota ha raccontato nelle scorse ore un incidente in auto in cui lei e un'altra persona sono stati coinvolti di recente fortunatamente non si è trattato di nulla di grave e lei è la persona che stava al suo fianco al di là dello spavento per il botto non si sono fatti niente questa la dinamica dell'incidente una signora al volante della sua auto non si è fermata ad uno stop predendo in pieno la macchina dove stava viaggiando alessia cammarota il veicolo ha riportato solo importanti danni ad una ruota mentre pare che non abbia avuto grossi problemi sulla carrozzeria le grane più grosse in realtà sono arrivate dopo la donna che ha tamponato alessia cammarota infatti sembrava in apparenza una brava persona per questo la cammarota ha accetato di accordarsi con lei in un secondo momento dopo il lavoro qualcosa però è andato storto visto che la signora aveva torto l'assicuratore l'ha invitata a fare la costatazione amichevole provo a sentire la signora niente non risponde le mando un messaggio vocale e mi dice che avrebbe sentito la sua assicurazione racconta la cammarota per poi andare più nel dettaglio nel merito della questione a questo punto vista la mancata risposta l'ex corteggiatrice ha iniziato a parecchio e ha scritto alla signora dopo il mio se continua a non rispondere dovrò denunciare la cosa la signora risponde o meglio risponde fingendosi la nipote che però conosceva ogni dettaglio dell'incidente quasi l'avesse vissuto lei ne nasce un confronto poco amichevole e poi finge di passare il telefono alla zia la controparte dell'incidente e io le scoppio a ridere in faccia perché nemmeno mio figlio di 7 anni si comporta così grazie a tutti